Per smettere di fumare, inizia fissando una data in cui smettere e comunicala ad amici e familiari per ufficializzare le tue intenzioni e spingerti a mantenere la parola. Sbarazzati di tutto ciò che riguarda il fumo, come sigarette, accendini e posacenere, in modo da non essere tentato. Limita l'esposizione ai fattori scatenanti più comuni, come l'alcol e gli altri fumatori. Se di solito fumi quando sei stressato o turbato, prova invece a fare esercizio fisico, meditazione o esercizi di respirazione. Se hai voglia di fumare dopo i pasti, distraiti mangiando un dessert salutare o masticando una gomma. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie raccomanda di trovare qualcosa che distolga la mente dal fumo, come guardare la tv, chiamare un amico o persino lavare i piatti. Suggerisce anche di usare gomme, cerotti o pastiglia alla nicotina per alleviare i sintomi dell'astinenza. Infine, se hai difficoltà a smettere da solo, chiedi al tuo medico se puoi prendere dei farmaci che aiutino a smettere di fumare.